Giovanni Poleni nella prima metà del Settecento insegnò astronomia, filosofia naturale, matematica, fisica e nautica al Bo. Lavorò molto anche per la salvaguardia del territorio della Repubblica di Venezia. Stimato da Eulero, Newton, Leibniz e Cassini, fece parte delle maggiori accademie europee. Nelle sale del Museo della Fisica, lui intitolato in via Loredang 10, si compie un vero viaggio nel tempo che inizia dal gabinetto di fisica avviato da Poleni nel 1739 fino alle ultime ricerche e non mancano le curiosità. Ad esempio Poleni restaura la cupola di San Pietro a Roma, viene incaricato dal Papa di questo restauro per fare gli esperimenti, per definire come e quali cerchioni fissare alla cupola per consolidare la cupola, utilizza una macchina che per la prima volta viene esposta al museo. E poi i collegamenti con il territorio, abbiamo il battipalo che nel settecento, il modellino del battipalo, quindi una macchina per costruire i ponti, che venne usata nel settecento per ricostruire il ponte di Bassano disegnato da Palladio. Suo anche il restauro del campanile di San Marco, colpito da un fulmine nel 1745. Il museo Giovanni Poleni, realtà unica nel Veneto, è aperto al pubblico e alle scuole. In Italia, oltre al Galileo di Firenze, esistono musei universitari di storia della fisica a Napoli o Pavia, ma le loro raccolte non coprono un arco temporale così ampio e con una tale varietà e ricchezza di strumenti. Il museo di storia della fisica è in realtà la storia della scienza, dell'importanza della scienza, dell'importanza di avere coraggio, credere nella scienza, ma anche sapere le regole della scienza, per cui la scienza è bellissima, ma la scienza è anche rigorosa e dura. Questo è il percorso sperimentale, questo è il percorso sperimentale che oggi uno può anche avvicinare nella bellezza, perché il museo, lo vedrete, è un museo splendido.